Il presidente della regione Enrico Rossi chiederà un incontro al ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli per fare il punto sugli interventi prioritari per la Toscana, alla luce delle perplessità dello stesso ministro su alcune opere strategiche come la nuova pista per l'aeroporto Fiorentino Vespucci, l'alta velocità ferroviaria a Firenze, la Darsena Europa a Livorno, la Tirrenica. Rossi ha sottolineato che la Toscana è forse l'unica regione a non chiedere infrastrutture nuove ma l'ammodernamento di quelle già esistenti. Io però ho fiducia che potremmo chiarirci che la strada che noi abbiamo tracciato per la regione toscana possa trovare una convergenza di forze, di opinioni, di ragionamenti e ci auguriamo anche da parte del ministro Toninelli con cui chiediamo di incontrarci, ci spiegheremo, ricostruiremo le ragioni delle nostre scelte. Secondo il presidente Rossi, fra i progetti su cui anche Toninelli può convergere, ci sono le terze corsie autostradali sulla 1 e la 11, già autorizzate e finanziate. Per la Tirrenica, Rossi ricorda che il progetto è già stato rivisto e prevede una strada su quattro corsie percorribile in sicurezza. Anche il progetto della Darsena Europa a Livorno è già stato rivisto e i fondi per realizzarlo li ha stanziati la regione. Rossi ritiene indispensabile anche il tunnel AV a Firenze per non bloccare, ha detto, la circolazione ferroviaria di tutta l'Italia all'altezza della Toscana. Per quanto riguarda gli aeroporti, Rossi concorda con Toninelli sul fatto che Pisa è l'aeroporto fondamentale della regione, così come è necessario potenziare i collegamenti ferroviari fra Firenze e Pisa e fra Firenze ed Empoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti